Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale! Oggi un nuovissimo video di brochet Mi trovate nella mia vecchia stanza, quindi sono a casa dei miei genitori E quindi oggi farò questo video Allora, non sarà uno spacchettamento perché praticamente come ho già detto Scusate se... ma ci sono 40 gradi E le premesse sul mio viso le ho già fatte nel video precedente della spesa di Eurospin Quindi ve lo lascio qua, che ho registrato 5 minuti fa prima di questo Allora appunto, come vi dicevo, non sarà uno spacchettamento Perché i pacchini arrivano direttamente al lavoro Quindi Bartolini li porta al lavoro Io li apro, li sistemo lì Però se voi siete curiosi di sapere cosa mi ordinano le mie clienti Seguitemi su Instagram Perché io faccio sempre le storie con i prodotti E anche su Facebook Comunque i link, cioè vi lascio tutti i riferimenti sotto E quindi... e quindi niente Io ho già dato la maggior parte dei prodotti Comunque quelli che non ho dato ce li ho già divisi nelle bustine in negozio Aspetto le clienti che se le vengono a ritirare Però volevo farvi vedere cosa mi era ordinata per me Allora adesso mi sono accorta che mi manca qualche prodotto Però vabbè, non sarei stata io Quindi l'ho dimenticato in negozio Ma comunque partiamo subito Allora, nell'album 8 C'era una bellissima promo Che se acquistavi almeno 3 solari No, almeno Se acquistavi 3 solari Avevi in omaggio con l'aggiunta di 1 euro il telomare Allora, io ho preso questi 3 solari per Thomas Anche qui, su Instagram ho pubblicato le foto di Thomas Con questa crema Perché è veramente ottimo Questa è una protezione 50+, appunto è un FPS 50 Raggio UVA UVB È un latte solare a base di eringio marino Che è il poliattivo vegetale proprio di questi solari E niente, devo dire che è ottimo Io già lo utilizzo Saremmo andati a male 4-5 volte Lo applico spesso Quindi lui non si può bruciare Naturalmente essendo piccolino Andiamo la mattina fino alle 10 al massimo E quindi devo dire che fino a ora mi sto trovando super bene Siccome appunto la applico prima quando partiamo da casa E poi la applico perché lo metto nella piscinetta Giustamente magari si bagna con l'acqua Quindi poi gliela riapplico per stare sotto l'ombrellone E quindi ne ho prese 3 Perché ho pensato che da qui a settembre se ne consumeranno E visto che c'era la bellissima promo con 1 euro Mi sono accavarrata lui Questo telo da mare Allora, devo dire che secondo me Allora, Iverset ha fatto altri teli da mare altri anni Ma li ha fatti in cotone Quelli con le frange classici Devo dire che quest'anno si è davvero superato Perché è di una spugna Non lo so se la riuscite a vedere È proprio bella Una bellissima spugna E il telo è proprio bellissimo e grande Allora, ve lo faccio vedere da qua Che ha il logo di Brochet E poi per il resto, vabbè, è tutto verde Semplice Allora, è 1,40 Io sono alta 1,80 No, io sono più alta di 1,40 No, sarò 1,65 Comunque non sono altissima Però mi è piaciuto il fatto Che essendo così a fondo chiaro Sicuramente io lo utilizzerò per Thomas Perché ha quel telo dell'uomo ragno Che vi ho fatto vedere Ma quando lì c'è sabbia Su quel telo io non lo vedo Perché il telo è molto scuro Di fondo molto scuro Invece qui, essendo quel fondo chiaro Vedo ogni minimo granello E mi viene comodissimo A parte che è veramente bella E quindi niente Questo è uno Ed è stato il mio acquisto E sono topissima Sono veramente felice Poi mi sono comprata E ho utilizzato oggi Ho preso la nuova linea Per i capelli ricci Infatti vedete che manca Perché l'ho utilizzata oggi Qui da mamma Ed è appunto E' lo shampoo per capelli ricci E' uno shampoo crema Senza solfati Che ha la base di fruttani d'agave Come sapete ci sono in tutti Shampoo di brochet Che servono a riattivare La microcircolazione Del cuoio capelluto La profumazione Devo dire è molto buona E qui c'è scritto Che ha il lino Definidor Che non so Preciso che cosa sia Comunque c'è scritto Che è un lino Dall'effetto modellante E Devo dire che mi sono piaciuti Entrambi Anche questo ha gli stessi Gli stessi estratti E tutto La promo dell'album Comprendeva Lo shampoo E il siero per i ricci La crema modellante ricci A 9,95€ Il prezzo dello shampoo E' di 4,95€ Allora se lo prendevi singolarmente Però era 3,95€ Lo shampoo E E questo è 10,95€ Mentre il balsamo E' 4,95€ Prezzo normale Fuori catalogo Lo shampoo E' 4,95€ Comunque io ho preso 10€ Questi due E' 4,95€ Questo Adesso oggi Non ho utilizzato questo Perché Allora avevo questo borsone Di brochet Quindi ho messo No ho spacchettato il pacco Ho messo tutti i prodotti qui Quelli che mi dovevo portare io Questo era messo così Nell'angolino Quindi io non l'ho visto E quindi ero convinta Di averlo lasciato in negozio E quindi ho usato altre cose Per lo styling Quindi la prossima volta Vi farò vedere Lo styling Ecco fatto con questi Però mi sono piaciuti tanto Secondo me Io vi sto facendo confondere oggi Ok poi avevo preso un'altra cosa Ma appunto l'ho lasciata in negozio E quindi niente Poi mi sono ordinata Questi Che è il campionario dei blush Allora io ho già qualche blush In full size Che utilizzo Da far provare alle clienti Però questo mi sembrava Un prezzo veramente ottimo Perché era 24,95 Appunto riservato solo a noi capogruppo Meno la provvigione Ma qui ho tutti i blush Sono 1, 2, 3, 4, 8, 10 blush Quindi tutte e tutte le colorazioni Forse ho detto profumazioni Comunque tutte e tutte le colorazioni La cialdina è proprio della stessa grandezza Di quelle lì che si vendono L'unica cosa è che non ha l'astuccio Quindi sono messe qui tutte insieme E siccome molte delle mie clienti Mi chiedono spesso blush E blush E blush Comunque io quindi Gli faccio provare queste E poi glielo vado ad ordinare E poi posso sempre utilizzarla anche io Quindi Ecco ho voluto prendere queste Che mi fanno da campionario Infine per aver fatto un tot di ordine Per aver superato se non sbaglio La soiera di 480 euro Mi hanno omaggiato Allora intanto mi hanno omaggiato Di questo Astuccio Che già ne ho uno molto simile Ed è molto comodo Perché lo utilizzo anche O per i beauty party O per portare in giro Pennelli Matite Sempre matite Occhi Labbra Queste cosine qua Mamma ragazze Ma sono veramente macchiatissime Comunque ed è questo qui Quindi questo era in omaggio È molto carino Con la cernierina Così con il logo di brochet E quindi uno è questo Poi c'era una tinta labbra Non ricordo la colorazione Ma l'ho lasciata in negozio Perché Io so fare le cose un po' così Un blush Appunto Questo qui è il rosa cappuccino Ed è veramente bello Un bellissimo rosa Non lo apro Perché appunto Già ho quelli Eventualmente lo posso rivendere E poi c'era questo illuminante Questo l'avevo visto già Dal video di Fiore E lei l'aveva detto Dice Piccolissimo La tenera in borsa È molto molto bello E anche questo Allora Questo è nella tonalità rosè Io sinceramente Non so se lo Se lo aprirò Perché ultimamente Comunque sto in fissa Con Con gli illuminanti In polvere Anche perché col caldo Penso che Scusate Col caldo Penso che li riesca A modulare meglio Anche perché Come sapete Io ho la pelle Sempre secchissima Ma d'estate No D'estate proprio Mi diventa grassa Quindi Per ora non lo utilizzo Aspetto delle recensioni Appunto di Fiore O in generale E poi eventualmente Potrò anche utilizzarlo Quindi questi erano Gli omaggi Che già Secondo me Fai 12,95 3 Comunque Si parla di una Cinquantina di euro Di omaggio Credo di avervi Fatto vedere tutto Vi dovevo fare vedere Sicuramente qualcos'altro Ma ve l'ho dimenticato Quindi ve lo farò vedere La prossima volta E E niente Ah C'è questo C'è anche quest'altro Come omaggio E questo Lo sapete Che io lo utilizzo È il nuovissimo Olio struccante Con aceto concentrato Di camomilla selvatica Per pelli sensibili Io ho già fatto un video Che vi lascio qui Dell'altro La versione prima Praticamente Che c'è anche ora Comunque quello ancora Lo stanno mantenendo Quindi forse questo Avrà qualcosa di diverso Non lo so Comunque io amo Questo tipo di prodotto E quindi naturalmente Non vedo l'ora di provarlo Lo utilizzerò E vi farò sapere Come mi trovo Adesso vado Perché sto sudando Fa veramente caldissimo Io vi ringrazio Per aver guardato il video Oggi mi sento Veramente produttiva Qui da mamma Perché ho registrato Due video E quindi avrò più tempo Poi a casa Da dedicare Magari a Thomas Io vi mando Un bacio grandissimo E noi come sempre Se vi faccio Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao